Umbrini si ha lavoro non solo per completare la rosa disposizione del tecnico Monticciolo ma anche sotto l'aspetto organizzativo. La dirigenza adriatica infatti sta preparando con grande attenzione la conferenza stampa di presentazione del nuovo assetto societario che detti anche gli obiettivi immediati e futuri per il calcio bianco-azzurro con la possibilità di dare anche in quella circostanza una importante sorpresa che possa dare entusiasmo alla tifoseria adriatica in vista dell'inizio della nuova stagione. Sul fronte mercato la dirigenza adriatica vuole completare il parco over in vista dell'inizio del ritiro ma con un'attenzione particolare al mondo dei professionisti provando anche a trovare l'occasione giusta per poter trovare qualche giocatore che avrebbe meno spazio in Serie C e che potrebbe quindi in chiusura di mercato guardare anche alla possibilità di scendere di categoria sul fronte offensivo. Si guarda i nomi di Francesco Marchigiani e di Pietro Terranova che sono seguiti dalla società adriatica per quanto riguarda il parco under è invece chiusa la trattativa con il giovane calciatore classe 2005 Raffaele Natuzzi di proprietà del Bari che potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore e con il direttore generale Andrea Gianni che continua anche il suo colloquio in particolare nel feeling con la Lazio per portare i più giovani calciatori provenienti proprio dalla primavera laziale in riva all'Adriatico.